La roccia. Questo è un mercolio. San Giuliano. E' San Giuliano che ha messo i miei tuoi. Ah. Perché San Giuliano era un guerriero. Va a combattere la Terra Santa. A ritorno il demonio incontra il demonio. Vai a casa perché la tua moglie ti tradisce. Va al canale a letto, sono questi due. L'ammazzo, che è stato? L'ammazzo, erano i genitori. Ah, e dopo? E' sempre santo. E' sempre santo. Invece di diventare Giavolo, viene trovato. Perché è contento. E' stato la roccia. E' stato molto importante. Certamente. Questi dispiace dicendo. E' nella Spagno Okay. La minorca, loro ne sono delle peste. È chiamate parlese, spagna, ma maioretica. noi si chiamano cirambica, però mai unica, perché vengono la maiolica.